benvenuti in questa nuova pausa caffè oggi vi mostro in tre mosse come trasformare una qualsiasi clip in una clip cinematografica ma prima aldo ricci presenta pausa caffè pausa caffè girano i dischi di aldo ricci benissimo questa è la vostra clip di partenza che cosa deve fare mossa numero uno prendere una lat buttare la lat sopra la clip poi prendete un livello di regolazione già compreso di bande cioè i tagli neri che state vedendo sotto e sopra andate a centrare l'immagine all'interno della della vostra scena andiamo a impacchettare tutto con una curva che scende così e mettiamo del disturbo sul livello di regolazione il disturbo mi raccomando mettetelo 3 per cento così ci dà quella grana un po cinematografica ma che è stata di non è questo che rende una clip cinematografica girano i dischi di aldo ricci